La principale novità di McLewis per il 2016 è sicuramente NES, una nuova e interessante serie di motorhome dal design moderno e accattivante. In particolare il NES 22 che completa la nuova gamma di integrali, omologato per sei posti in viaggio con altrettanti posti letto e senza dubbio adatto alla famiglia. NES 22, novità assoluta per quel che riguarda McLewis e per quel che riguarda anche il settore e la fascia dei motorhome. Motorhome pensato e realizzato per la famiglia, un sepo stiletto, sepo omologato, che offre grandi spazi sia abitativi che di stivaggio per le famiglie. La pianta distribuita su 726 cm di lunghezza presenta una comoda zona living con grande tavolo centrale posto su piantana, affiancato da due grandi divani trasformabili in matrimoniale, che con due letti a castello trasversali in coda in corrispondenza del gavone garage a volume variabile e il classico letto matrimoniale basculante in cabina, offre sei posti letto, dei quali quattro sempre pronti. Siamo convinti che il motorhome non sia solamente il punto di arrivo per ormai le coppie che hanno avuto le loro esperienze e che vogliono fare l'ultimo passaggio e non hanno necessità di uno spazio ampio, ma anche le famiglie, quelle che comunque sia coltivano il sogno nel cassetto di avere un motorhome, ma ecco abbiamo lavorato per poter in qualche maniera garantire, esaudire questo loro sogno. La cucina L con piano cottura a tre fuochi e lavello tondo in acciaio, sormontata da due pensili con antichiare dall'inedito design, è collocata nella parte posteriore della scocca, contrapposta al maxifrigo da 150 litri e alla toilette che rivestite in legno, presente il box doccia separato. Allestito su meccanica Fiat Ducato con telaio ribassato, il Ness 22 come tutta la produzione McLewis si avvale della nuova scocca in tecnologia Hitec 4.0, che prevede una struttura con doppio rivestimento in terra ed esterno in vetro resina, pavimento dotato di telaio perimetrale in resina composita e coimmentazione in styroforma, identica struttura anche per pareti e il tetto. Con questo nuovo sistema la scocca McLewis abbandona del tutto le componenti in legno, migliorando la resistenza alle infiltrazioni. Gli esterni sono caratterizzati da una moderna e slanciata grafica sulle pareti laterali, con frontale in vetro resina, paraurti in ABS e ampio parabrezza disegnato intorno ai pari originali del Ducato. Gli interni freschi ed eleganti sono dotati di luce diffusa a LED, con elementi a diffusione anche sotto il basculante. Una volta ruotato i sedili di guida si ha una dinette ampia per addirittura più di 6 persone, si può dare ragione anche le 8 persone, quindi benvengano anche gli amici di viaggio per una cena tutti insieme, un pranzo tutti insieme. Ness 22, il motorhome formato famiglia per viaggi in pieno comfort.